Invece il consigliere a prendere posto? Se no dopo non tu lo posso presentare. Eh? 58 se no non tu lo posso presentare dopo. Tu presento, poi io decido. Allora, procediamo da PEN, invite il consigliere a prendere posto. Belisario, Benassi, Caccamo, Carlone, Carrus, Cercuoni, Ciancio, Cofano, Coglia, Giuliano, Gugliotta, Laddaga, Lancia, Lanotte, Lelli, Lenci, Lozzi, Matronola, Poli, Stelitano, Tredicine, Tutino, Villa, Vitrotti. Uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove, dieci, unici, dodici, tredici, tredici, quindi è il numero legale, sì. Allora, abbiamo il numero legale, quindi possiamo aprire il consiglio. Le scudatori. Legge sta cosa? Allora, intanto nomino quale scudatore della seduta, i consiglieri Poli, Benassi e Carloni. I sottotitoli consiglieri sono pregati di non allontanarsi e sono previ a comunicazione alla Presidenza. Grazie. Un attimo solo. Comunico all'Aula che, a firma del consigliere Tutino, è stata presentata una mozione, articolo 58, con oggetto, calcolo dei costi reali dei servizi all'infanzia. Acquisisco la mozione, ma ritengo di non riscontrare i caratteri dell'urgenza, anche perché impegna anche il bilancio, quello che chiede questa mozione, quindi la porto in discussione al prossimo consiglio. Grazie. Forse il bilancio non l'impegna, forse non c'è il bilancio, forse non c'è il bilancio. Allora, Presidente, in discussione al prossimo consiglio, solo una piccolissima cosa. Non c'è discussione, questo non c'è il tutto. Volevo precisare che, credo che ad una veloce lettura potesse apparire che impegna il bilancio. In realtà, non impegna il bilancio in quanto si richiede semplicemente che la commissione capitolina ad hoc sui costi dei servizi all'infanzia, termini e pubblicizzi in tempi stretti i propri lavori. Però all'inizio, nel premesso... Va bene, ho carico il consiglio a tutti. Non ho bisogno, non ho bisogno. Io credo che questo consiglio, su questo argomento, ha già votato tempo fa una risoluzione. È stato acquisito un ordine del giorno, quando abbiamo fatto la discussione sul bilancio, su questo argomento e la Presidenza dell'Aggiunta l'ha fatto proprio. Quindi io acquisisco la mozione, ma ritengo che non ci siano i caratteri dell'estremo urgenza secondo l'articolo 58 e quindi la porto in discussione nel prossimo consiglio. Grazie. Grazie. Era solo una precisazione sul bilancio. Andiamo all'ordine del giorno del consiglio. Abbiamo al primo punto, allora, mozione presentata dal consigliere Cogliellozza, aventi ad oggetto ai criteri di partecipazione dei banti municipali. Propongo all'Aula di impartire questo ordine del giorno, se non ci sono contestazioni, di mettere in discussione, diciamo, questo primo punto, come terzo punto, prima delle interrogazioni e quindi fare quest'ordine qui. Alimì, prima discussione, modifica a periodo di venti da dei prodotti primaverili. Poi, proposta di risoluzione aventi ad oggetto di riqualificazione del fiume Almone. Terzo punto, la mozione a firma dei consiglieri Lozzi e Coia. E poi le interrogazioni, 30% stanno ancora facendo l'aggiunta, quindi quanta tireranno gli esponenti dell'aggiunta passeremo alle interrogazioni. Allora, quindi, se non ci sono contestazioni su questa inversione dell'ordine del giorno, mi sembra di no, quindi andiamo avanti con il punto 2. Proposta di risoluzione aventi ad oggetto modifica a periodo di venti da dei prodotti primaverili per i posteggi isolati stagionali. Presidente della Commissione, lo prego, Consigliera Caccomo, di presentarci l'atto. Grazie. Grazie, Presidente. Stavo dicendo che, proponendo questa risoluzione, la Commissione Commercio ha voluto accogliere anche quest'anno le richieste che sono pervenute dagli operatori dei posteggi isolati stagionali, produttori agricoli che vendono appunto i propri prodotti della terra. La normativa ancora vigente prevede che si possano vendere questi prodotti dal 1 maggio al 30 ottobre e dal 1 ottobre al 31 marzo, obbligandoli ad interrompere ogni attività nel mese di aprile. In Regione è in via di discussione e a marzo arriverà nelle commissioni preposte, nelle commissioni competenti, un nuovo testo unico sul commercio che modificherà le norme in base alle mutate condizioni sociali, economiche ed anche climatiche. Condizioni climatiche, ad esempio, che sono in questi ultimi anni profondamente mutate. Perciò il mese di aprile non sembra più essere il mese idoneo per l'interruzione delle attività. La commissione commercio del municipio ha rilevato questa situazione e si è fatta carico con la risoluzione numero 19 approvata l'anno scorso, il 18 settembre 2014, di proporre al legislatore una variazione in tal senso indicando proprio quale periodo più idoneo per l'introduzione dell'attività, gennaio o febbraio, perché questi sono i mesi durante i quali le avverse condizioni atmosferiche portano gli operatori a perdere giornate, molte giornate di lavoro. Per far recuperare loro queste giornate di lavoro perse, la commissione ha chiesto con questa risoluzione alla Presidente, all'assessore competente, di attivarsi presso gli uffici preposti, affinché sia concessa ai produttori agricoli l'autorizzazione per la vendita dal 1 al 10 aprile e dal 21 al 30 aprile, attuando la sospensione del lavoro dall'11 al 20 aprile, tutto questo in attesa che, venga recepita la nostra segnalazione in sede di attuazione e di approvazione del nuovo Testo Unico del Commercio, che appunto sarà in discussione in Regione, nelle commissioni competenti regionali. Il compito del Consiglio Municipale, organo istituzionale di frontiera, direi, raccogliere le richieste dei cittadini e dei lavoratori, farsene carico, farsene portavoce e battersi perché si soddisfino al meglio le necessità che loro portano, che ci presentano. Con questa risoluzione vorremmo quindi far recuperare giornate di lavoro ad una categoria di lavoratori che è alquanto penalizzata. Perciò mi auguro che questa risoluzione ottenga il favore di tutti i consiglieri. Grazie consigliera Caccamo. Allora, apriamo la discussione. Consigliera Carlos, prego. Presidente, Assessore Antonelli e colleghi consiglieri. Io intervengo in merito alla risoluzione oggi in oggetto perché, come già è successo anche in passato, ho avuto delle perplessità e delle riflessioni sul tema. Devo dire che questa volta però la Commissione ha lavorato anche affiancata dagli uffici competenti e che quindi questo ha comunque in qualche modo agevolato la stesura dell'atto e ha tolto alcuni dubbi anche nelle modalità in cui questo argomento è stato trattato rispetto agli anni precedenti perché rispetto a 2014, se non sbaglio, la risoluzione del 20 marzo in cui si chiedeva la proroga e quindi completamente si aboliva la sospensione del mese di aprile chiedendo appunto di non fare alcuna sosta, questa volta si richiede soltanto di intervenire per un periodo limitato, quindi dal 1 al 10 aprile e dal 21 al 30 aprile. Dopodiché la mia riflessione e il quesito che ho posto anche all'interno della Commissione è chi e come ha deciso queste date, nel senso in modo un po' arbitrario, probabilmente per un problema di tempistica, altrimenti si sarebbe andato al mese di marzo e sarebbe stato troppo vicino, avrebbe complicato un pochettino di più il lavoro. Dopodiché senza ombra di dubbio che c'è bisogno che la Regione Lazio in qualche modo riqualifichi e riprenda un po' le fila del discorso, secondo me prima ancora del periodo di sosta della problematica dell'occupazione di solo pubblico permanente o temporanea, del periodo appunto in cui i produttori agricoli fermano la propria attività e anche il riconoscimento dei prodotti agricoli, perché il produttore agricolo è quello che vende direttamente il prodotto coltivato nelle proprie terre. Dopodiché io vorrei sapere quanti sono, forse questo è il tema che dovremmo approfondire prima di tutto, quanti sono quei produttori agricoli che realmente nel nostro territorio vendono i prodotti delle proprie terre e come e in quale modo anche nei controlli che sicuramente non spettano a noi fare, ma magari chi controlla anche le licenze dell'autorizzazione, quali prodotti e quali funzioni e in che modo si riconoscono quelli che sono i prodotti realmente di vendita diretta degli agricoltori. Quindi questo sicuramente è un esempio di un qualcosa che deve essere specificato meglio anche a livello regionale, perché non è possibile, penso anche a tutela del consumatore e del cliente che va a comprare il prodotto, deve essere cosciente se quel prodotto è realmente coltivato direttamente o seppure è preso da qualsiasi altra parte all'ingrosso e poi rivenduto, ottenendo però in quel caso, in quel campo, una strada aperta ai produttori agricoli, non essendo però poi realmente un produttore agricolo. Questo è un tema che si apre su tutta la città, che ovviamente non dipende dalla città di Roma, ma dipende dalla Regione Lazio. È vero anche che questo Consiglio ha già richiesto una modifica della legge regionale e che quindi speriamo che nella nuova modifica del testo unico al commercio vengano fatte alcune modifiche in questo senso e che forse venga anche accolta quella di spostare il periodo di sosta da aprile ai mesi di gennaio e febbraio. Nonostante le perplessità che continuano a rimanere su questo argomento, come ho già detto prima, apprezzo il fatto che questa volta la Commissione comunque sia andata verso la richiesta non della proroga dell'intero mese, ma soltanto di una parte e che comunque abbia lavorato affiancata dagli uffici, cosa che precedentemente non era accaduta. Grazie. Grazie Consigliera Carrus. Altri interventi? Consigliere Matrona, la prego. Buongiorno a tutti. Ringrazio la Consigliera Carrus che ho visto che finalmente... Carrus, ho detto bene. Ah, scusi Presidente, richiama regolamento. Consigliere Matrona non si può rivolgere all'aula buongiorno a tutti. Si rivolge alla Presidenza, ai consiglieri, non è che io... E poi si vuole dire buon poveriggio all'aula. Consigliere Matrona, scusi eh. Consigliere Castellitano, ha perfettamente ragione, Consigliere Matrona. Si rivolga a tutto il Consiglio, grazie. Che l'ho detto. Si rivolga... Buongiorno a tutti, meno che uno. Si rivolga a tutto il Consiglio. Scusa. Consigliere Matrona, per favore, su. Non voglio iniziare allora. Buongiorno a tutti, meno Castellitano. Confermo. O posso dire? Eh, io richiama regolamento. Eh, richiama regolamento. Per favore, consigliere, per contesto, su. E' un favore che mi fa, eh, è un favore che mi fa. Ringrazio comunque la consigliera Carus, perché ho visto che finalmente ha capito il problema. Quei 20 giorni, quei 10 giorni prima e 10 giorni dopo di apertura, hanno un senso. Perché nell'altro esercizio, cioè nel 2014, fu detto 30 giorni da parte del Consiglio. E invece gli uffici che hanno lavorato, come hai detto bene tu, molto bene, invece di dare 30 giorni, ce ne hanno dati 20. Allora adesso abbiamo detto, vabbè, visto che 20 ce l'hanno dati l'anno scorso per questo sistema, per questa occupazione, facciamone 20, sperando che qualcuno non dice, allora ne tagliamo 10. Perché poi diventerebbe un problema molto profondo, molto politico. Perché non è che il Consiglio decide una cosa e qualcuno ne dice un'altra. Cioè noi decidiamo una data e qualcuno la data, a suo piacere, la taglia e fa diventare 10 giorni. Il problema è che purtroppo, se voi sentite anche i telegiornali o i vari servizi, parlano chiaro che le stagioni sono cambiate, non c'è più la stagione intermedia. Ormai non ci stanno le mezze stagioni, si passa dall'inverno all'estate, dall'estate all'inverno. Cioè è diventato ormai, da quattro stagioni ne abbiamo due. E quindi la produzione ormai non ci capisce più niente, la stessa terra non ci capisce più niente quello che sta succedendo. Però noi siamo d'accordo, siamo contenti, siamo contenti che finalmente questo Consiglio si, come possiamo dire, ha valutato abbastanza bene questa nostra iniziativa, grazie anche alla Commissione, alla Presidente Caccamo che ha lavorato bene, devo dire bene, qualcuno mi dirà è sempre a Caccamo che lavora bene. No, ha lavorato bene perché è una Commissione che lavora bene. Pertanto la ringrazio, ringrazio la Commissione e tutti i membri della Commissione che hanno contribuito a questo lavoro e mi auguro che si arriva al voto all'unanimità, che non ci sia qualche pezzettino che si perde per strada, che magari, così, o sto dicendo così, non sto dicendo niente, qualche pezzettino. E quindi finalmente questo Consiglio si esprima all'unanimità. Grazie, arrivederci a tutti. Grazie Consigliere Madrona. Buon Natale, Consigliere Madrona. Buon Natale. Consigliere Esterità, per cortesia. Allora, altri interventi? Non ci sono altri interventi, passiamo alla dichiarazione di voto. Ci sono dichiarazioni di voto? Non ci sono dichiarazioni di voto? Passiamo alla votazione. Allora, chi è favorevole? Grazie. 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Prego il consigliere Poli, ripresentate l'atto. Grazie Presidente, colleghi consiglieri e Assessore Antonelli, buonasera. Grazie a tutti. Allora, 19 voti a favore. Prego consigliere Poli. Il consigliere Scutatore? Prego il consigliere Poli, ripresentate l'atto. Ha effettuato e perfezionato i propri lavori dedicando al tema due o tre sedute, in una delle quali è intervenuto anche il rappresentante del Comitato per il Parco della Caffarella. Con l'apporto di tutti i consiglieri il testo è stato rimodulato affinché la Presidente e la Giunta si attivino presso tutti gli organismi competenti per ottenere due tipologie di risultato. Una, nell'immediato e quindi la bonifica e la periodica manutenzione dell'alvio per evitare gli effetti che tutti noi abbiamo constatato e purtroppo subito nel recentissimo passato. Quindi lo spostamento degli autodemolitori che sono in via dell'Almone. L'altra tipologia di risultato che l'atto si persegue è quello di ottenere entro il 2015 il censimento e la rimozione degli scarichi abusivi nel territorio del Comune di Roma e l'approvazione da parte della Regione del contratto di fiume per il fiume Ammone, così come preannunciato dalla Direzione Ambiente della Regione. Sul sito del Parco della Caffarella, in effetti, la provincia di Roma ha fornito i dati per ciò che attiene gli utenti autorizzati allo scarico e vi consiglio di andarlo a visionare perché ci sono tutti quanti i dati delle tipologie di scarico e delle portate annue che fanno riferimento al fiume Ammone. Ovviamente noi parliamo di comuni anche a noi di Mitrofi, partendo da Ciampino, Grottaferrata, Marino, Rocca di Papa e poi ovviamente il nostro territorio. Della iniziativa che è stata assunta da CEA ovviamente per la sistemazione del collettore per quanto riguarda il nostro territorio lo sapete tutti e quindi sapete che nel corso di questo anno i lavori dovrebbero essere portati a termine. Tuttavia, non solo perché ce lo segnalano i comitati afferenti alla materia e quindi che si occupano del parco, numerosissime sono le utenze che non sono autorizzate allo scarico, per cui l'intervento che chiediamo e sollecitiamo con la risoluzione è tendente proprio a migliorare la situazione dell'alveo complessivo per far sì che questo bene naturale poi non crei problemi che ormai da qualche anno subiamo nel nostro territorio con le continue sondazioni, con disagi per tutta la cittadinanza. Mi scuso intanto con la segreteria del Consiglio perché ho visto che ai colleghi è stata inviata quella bozza scritta a mano, pensavo di averla girata, lo farò più presto quindi per girare il terzo coordinato. Comunque sì, le modifiche sono comprensibili, modifiche che sono state approvate all'unanimità dalla Commissione, per cui ritengo che ci siano tutti quanti gli elementi perché la risoluzione possa essere unanimamente considerata e approvata dal Consiglio. Vi ringrazio. Grazie, signor Poli. Apriamo la discussione. Consigliera Rozi, prego. Intanto ringraziamo la Commissione tutta ad aver accolto questa proposta di risoluzione presentata dal Movimento 5 Stelle per quanto riguarda la riqualificazione del fiume Almone perché credo che il territorio debba essere il primo a porre attenzione sulle problematiche ambientali che ci affliggono. I cittadini e anche il Comitato della Caffarella sono anni che stanno battendosi affinché questa area di pregio del nostro territorio sia riqualificata e bonificata e in conseguenza appunto delle esondazioni di ottobre e novembre la problematica si è riaperta in modo forte. Questo perché purtroppo nel corso degli anni, non essendo ben specificate le competenze amministrative sul territorio, ci sono stati non solo abusi negli scarichi abusivi ma anche è diventata una discarica a cielo aperto tutta la zona, ci stanno gli autodemolitori abusivi proprio a fianco della fonteggeria. Tutto questo insieme di cose crea appunto un inquinamento biologico molto forte nel territorio che invece con una buona riqualificazione dello stesso potrebbe essere fruito dalla popolazione in modo sicuramente molto più produttivo. È vero che le competenze in merito non riguardano prettamente il municipio, sono fondamentalmente regionali, provinciali e in minima parte anche del comune, ma noi essendo consiglieri del territorio abbiamo il dovere di sollevare la problematica e di farci sentire in merito, perché la tutela del territorio e anche il fatto che si intervenga in modo preciso e puntuale dipende anche da quanto noi riusciamo a far sentire importante questa tematica ai livelli superiori. Quindi ringrazio tutti e noi siamo favorevolissimi a questa risoluzione. Grazie consigliere Lozze. Consigliere Cofano, prego. Grazie Presidente, andiamo al voto oggi con un atto importantissimo, un atto che rispecchia un po' quella che è stata la situazione degli ultimi anni del fiume Almone, che è divenuta ormai una situazione insostenibile, ormai ai limiti di ogni condizione ambientale e geologica per il nostro territorio. Nonostante l'avvio dei lavori sul collettore fognario di Via del Quartomiglio, che era stato citato anche in precedenza dal Presidente della Commissione, la situazione chiaramente rispetto a questo intervento di manutenzione strutturale ha fatto sì che ci fossero dei mutamenti in positivo, ma chiaramente siamo ancora lontani dalla risoluzione del problema. Il rischio di esondazione prosegue, l'ulteriore esondazione del fiume Almone creerebbe una situazione di estremo pericolo anche per la salute di chi abita in quel quadrante. Negli ultimi anni la situazione è sempre stata tenuta sotto controllo e monitorata dai cittadini, dai residenti, dai volontari, che ormai da quasi 15 anni tengono d'occhio l'area, tengono d'occhio il fiume Almone, vengono prodotti da parte loro interventi anche di ripristino dell'alveo e eliminazione di detriti laddove è possibile. Per cui innanzitutto ci teniamo a ringraziare l'impegno dei volontari che in questi anni ha fatto sì che la situazione non esplodesse. Detto ciò, è opportuno che ci sia un intervento delle istituzioni, un intervento delle istituzioni che già avevano garantito che sarebbero intervenute. Noi con quest'atto chiediamo che venga data conseguenzialità allo stanziamento dei 5 milioni della Regione Lazio per il ripristino e la manutenzione dell'alveo e il successivo contratto di fiume. È un atto fondamentale perché metterebbe se non altro al sicuro un'area che è estremamente a rischio, che è un polmone del nostro territorio e sarebbe una vittoria per tutti i cittadini, ma soprattutto per la salute dei cittadini e di chi abita in quella zona. Per cui penso che quest'atto debba, gli dobbiamo dare la massima importanza. Ringrazio la Commissione, la Consigliera Lozzi e i commissari tutti che hanno svolto un ottimo lavoro sul tema. Ringrazio anche il Delegato del Parco che abbiamo anche audito in Commissione, il Signor Romano, che ci ha fornito anche dei dati a tratti anche allarmanti rispetto a quelli che sono i volumi degli scarichi che percorrono quotidianamente il fiume Almone. Ci basti pensare che solo 6 milioni di metri cubi di scarichi vengono prodotti soltanto da uno dei comuni limitrofi. Se sommiamo tutti, insomma, ci dà un po' l'idea di quella che è la mole della pericolosità. Per questo spero che quest'atto venga votato all'unanimità da parte dei commissari con lo stesso entusiasmo e determinazione con cui in Commissione abbiamo svolto i lavori. Grazie. Grazie a lei, Consigliere Confano. Altro intervento? Consigliere Ciancio, prego. Grazie, Presidente. Onorevoli consiglieri, assessori. Volevo rimarcare un aspetto di questo lavoro che è stato fatto in Commissione ma mi sembra un po' monco rispetto a quello che ci eravamo detti. avevo sollevato il problema di verificare direttamente alla direzione ambiente se effettivamente fossero in essere questi bei 5 milioni di euro che servono e come servono? Altrimenti, dice bene il Presidente della Commissione dei Lavori Pubblici siamo lontani dalla risoluzione del problema siamo lontani perché non si possono fare nozze con i fichi secchi con le chiacchiere, come spesso tanti fanno non si possono risolvere i problemi c'è necessità e urgenza di attivare qualche risorsa finanziaria per la riqualificazione funzionale e ambientale del parco ma soprattutto del fiume Almone ricordo i 2 milioni di euro spesi sulla vaccareccia per metterla in sicurezza attivati dalla Regione Lazio in essere però sono serviti solamente per mettere in sicurezza la vaccareccia quindi dei finanziamenti attivi noi dobbiamo assolutamente essere certi altrimenti sul testo che mi è arrivato che è cancellato con una freccia che dallo stanziamento pone sotto appenna qualche indicazione vorrei meglio sapere se sono attivi o meno diversamente sollecitare il Dipartimento approvandola anche come era arrivata la Commissione la risoluzione la prima volta approvandola perché è giusto sensibilizzare gli organismi competenti su questo problema soprattutto anche per quanto riguarda lo sgombero lì dell'area dell'area dello sfasciacarrozze il censimento di tutti gli schiarichi però la parte predominante tutto questo si potrà fare se le opere da fare abbiano la parte economica quindi io non sono riuscito a capire questa parte appenna se unge pro lo stanziamento del fio se è cassato il terzo punto del risolve oppure modificato ecco su questo chiediamo tre minuti un minuto di sospensione per far sì che ci diano chiarezza su sta roba altrimenti deve diventare chiaro pure per chi la deve estendere e farla diventare esecutiva eh sì sto in commissione cara consigliera io sto in commissione sì volevo dire che noi ascoltiamo tutti i comitati in commissione ascoltiamo tutti però e poi dobbiamo estendere un atto chiaro e puntuale grazie chiedo due minuti di sospensione se è possibile su questo aspetto grazie ci sono osservazioni su questa richiesta di sospensione del consiglio di cinque minuti consigliere posso non ho capito se vuole posso chiarire il motivo dell'integrazione sospendiamo un attimo cinque minuti il consiglio poi casomai sospendo il consiglio cinque minuti consigliere prendere posto prima di passare altrimenti consigliere Poli vuole chiarire un attimo un chiarimento al consiglio ovviamente perché in commissione questo aspetto è stato affrontato rispetto all'originario testo o meglio uno di quelli che abbiamo esaminato in commissione è emerso lo stanziamento di 5 milioni che la direzione ambiente della regione Lazio ha richiesto alla comunità europea quindi per attingere ai fondi europei per la sistemazione di questo tipo di interventi quindi di aree fluviali durante la commissione era emersa una perplessità avanzata proprio dal collega Ciancio che chiedeva certezza che fossero 5 milioni i fondi istanziati siccome di certezza non ne abbiamo abbiamo solamente la richiesta da parte della direzione regionale ambiente che ha chiesto alla comunità europea i fondi sufficienti per la sistemazione dell'alveo la formulazione quindi quel periodo è stato trasformato dalla commissione per ottenere entro il 2015 appunto ove non già perfezionato perché la richiesta della direzione ambiente già l'ha fatta lo stanziamento dei fondi per le opere di sistemazione complessiva del fiume senza citare ovviamente la somma che noi sappiamo essere 5 milioni di euro ma non è detto che la comunità europea accolga questa richiesta da parte della regione Lazio per cui è stata tra virgolette sfumata solamente l'entità dell'intervento finanziario richiesto fermo restando che è un impegno prioritario e quindi fa parte della prima parte della risoluzione per ottenere entro il 2015 oltre al censimento alla rimozione degli scarichi abusivi anche il perfezionamento dello stanziamento per la sistemazione di tutto l'alveo che attiene nel nostro territorio grazie consigliere Poli allora procediamo con la discussione allora chi altro consigliere può intervenire consigliere Giuliano prego allora grazie presidente no io volevo solo aggiungere visto che è stato ascellato oltre ovviamente all'importanza e alla problematica insomma che il Fiume Almone è una parte importante del nostro territorio che collega ovviamente anche i due municipi però sarà ugualmente indispensabile avere la certezza che la CEA finisca questo collettore in tempi brevi perché i due collegamenti i due quartieri che comunque sono interessati che sono in gran parte statuario e quarto miglio e sono causa non volendo di ovviamente di inquinamento quindi al di là delle piogge al di là delle acque quindi dalla percentuale di millimetri di acqua che casca e quindi anche l'intasamento delle fognature eccetera ma è vero che si poi se si fa questo collettore che è stato comunque già improntato e che comunque è partito c'è una scadenza diciamo anche recente nella 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 fine degli interventi dei lavori però finché non abbiamo questo percorso convalidato e ufficiale è normale che lì possiamo fare tutti gli interventi che vogliamo però poi gran parte dell'inquinamento deriva dagli scarichi diretti che ci sono stati fino ad oggi ok e di altre cose che si collegano pensate che su via su via di via Lappio Claudio fecero un furto di carburante una pompa di benzina nel frattempo poi furono scoperti scaricati con tutto nel tombino è uscito tutto sul fio d'almone cioè questo è il quadro quindi effettivamente sono stati no è stata la soffiata che l'avevano comunque evidenziati hanno scaricato tutto lì dentro per non avere niente e ci siamo dati sul fio d'almone quindi è una parte importante che va sistemata quindi al di là delle precisazioni e al di là delle volontà che sono regionali che sono provinciali perché i fossi quindi i consorsi hanno ovviamente una gestione diversa però dobbiamo seguire per quanto ci riguarda oltre che spingere in senso generale seguire i lavori della CEA che è quindi questo che possiamo essere come si dice una spinta ulteriore un controllo un confronto con la CEA che continui a portare avanti questi lavori che in tempi brevi possa dare un senso definito a questo intervento Fratelli Italia ovviamente faccio anche la direzione di voto è favorevole a quest'altro grazie consigliere Giuliano ci sono altri interventi consigliere Steritano prego grazie grazie presidente signori consiglieri no vorrei portare anche io un contributo a questa discussione che io non ho seguito non ho seguito perché purtroppo non faccio parte della commissione urbanistica spero a più presto di farne parte e la commissione lavori pubblici non è mai stata convocata su questo argomento perciò era un argomento importante era importante fare una commissione congiunta tra l'urbanistica e anche i lavori pubblici come ricorderà qualche qualche elefante di questo municipio noi nella prima nel 2001 abbiamo fatto una commissione congiunta tra ACEA municipio undicesimo municipio nono e municipio decimo naturalmente tutti ex perché adesso non ci sono più ma perché per fare un po' di geografia l'ex nono municipio l'attuale l'ex decimo e l'ex undicesimo e più la CEA in funzione della CEA più il dipartimento dodicesimo mi ricordo che c'era anche la signora la dottoressa Mara Mancini c'era il mitico ingegnere Maimone e c'era l'assessore Bucarini c'era un argomento molto importante nel sentito dei cittadini e perciò da lì è partito e all'assessore a lavori pubblici c'era Giancarlo D'Alessandro perciò questo argomento è un argomento che parte da molto lontano adesso che tra l'altro dico che non è in via il quarto miglio i scavi che stanno facendo consigliere Madrona ma è in via Valericcia così già individuiamo dietro al vivaio al vivaio al vivaio Chiti e perciò la cosa importante quella che a me mi preme è che oltre a parte il presidente Villa un argomento così importante non va portato in aula così con tutti i scarabocchi perché sinceramente io faccio fatica ma io faccio fatica anche se l'ho scritto bene però in questo caso i freccetti per uno che avviene per la prima volta questo argomento questo documento la cosa allucinante e la cosa preoccupante è che tutti questi fonti spesi per questo lavoro non bastano perché in questo momento noi se tanti di voi sono andati al al centro civico a statuario via Mantea così era ormai 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 di casa allora il problema qual'è voi sapete che lì dentro c'è il depuratore che tu no eh ma non te fanno uscire per cortesia non è il problema tu non ci vai perché ci fanno uscire allora detto questo consigliere il presidente ma voglio fare tranquillizzare il consigliere Giuliano perciò dicevo che in quel centro civico c'è il depuratore di un albergo che di fronte che tutti quanti voi conoscevi ci sono 550 stanze con rispettivi bagni che scalcono al depuratore c'è il collegamento tra l'albergo e il depuratore che passa in diapolia chi doveva costruire non ha fatto niente che doveva sistemare anche quella strada vero consigliere Lozzi lei più di una volta è venuta a fare un po' di volantinaggio io l'ho vista brava può migliorare però e la cosa importante è quella che questo depuratore deve essere dove va allora momento che abbiamo l'almone le fogne a statuario vanno rifatte perché ci hanno 50 anni e sono tutte vecchie sfasciate spesso e volentieri si rompono non solo a quarto miglio le fogne quando uno vuole costruire qualcosa vieni qui al municipio mi dai in bocchi fogli no non se lo fa perché lì non ci sono le fogne e perciò questo argomento è un argomento che io ringrazio la commissione che ha fatto questo lavoro magari sarebbe pure io adesso non ci sono stato sicuramente i componenti avranno sollevato un po' di problemi un po' di argomenti che magari se c'ero anch'io con la mia poca esperienza avrei potuto dire anche qualcosa magari convocare la cena un'altra volta per dire che cosa stanno facendo eccetera eccetera ma la cosa che mi dà un po' noia è che la presidenza della commissione lavori pubblici dove io indegnamente faccio i presidenzi non ha fatto una commissione congiunta avremmo avuto modo di sentire anche noi i comitati il comitato statuario Capanelle che è sempre presente presente per chi ne chiamà qualche volta è chiamato anche quando si parla anche di altri municipi potrebbe andare a presentarsi pure ad un altro municipio poi si presenta la prossima volta al comune di Europa non lo so tanto ormai si presentano tutti sono presentato pure io perciò tutto è ammissibile ecco io sono seriamente preoccupato che questa cosa viene fatta è una risoluzione ringrazio la consigliera Rozzi che ha tirato fuori questa cosa l'avrei voluto fare anch'io ma io che sto in maggioranza almeno non so se sto in maggioranza intanto ve lo domando ma io in quale maggioranza sto? nella maggioranza di quella democratica è eletta democraticamente è eletta quella sana perciò io sono prima che fa in porto questa cosa vorrei fare chiedere al presidente al mio bravo presidente della commissione che ultimamente devo dire che riusciamo pure a parlarci presidente della commissione lavori pubblici è bravo devo dire che sta migliorando scusate per cortesia su per favore per cortesia sì poi stanno questi due brutti ceffi che girano che si aggirano per lo statuario e perciò la mia preghiera era di rifare un passaggio in commissione lavori pubblici e magari vedere un po' se possiamo portare un contributo in più facendo presente che servono i fondi per rifare le fogne a statuario perché sono insufficienti grazie grazie consigliere Matroldo la prego ringrazio sulla direzione di Matroldo ci va a chiudere il consiglio perché ci sono cose grazie adesso devi dire una cosa molto grave chiudiamo a dico a dico io intanto ringrazio il consiglio di Estelitano visto che abita il luogo ci ha descritto abbastanza bene la situazione di statuario e di quartomiglio perché poi non capisco se statuario e quartomiglio sul stesso quadrante non discutiamo statuario è statuario per cortesia per cortesia per cortesia su consigliere Matroldo è appassionato consigliere Matroldo è il problema degli allacci in fogna ma come hanno concesso gli uffici consigliere Estelitano consigliere Estelitano per favore io voglio dire come è possibile di castatuario che a quartomiglio hanno concesso le costruzioni tutto quanto le licenze di costruzioni ma non ci sono gli allacci in fogna ancora perché via Luciovero ora dico una strada così che mi viene a caso via Luciovero via Luciovero due palazzine scaricano dentro una fossa biologica perché non ci può concedere l'allacci in fogna a quartomiglio via Luciovero come è possibile perché la CEA non ti dà l'autorizzazione perché l'albergo come è la stessa cosa perché la CEA non ti dà l'autorizzazione alla l'allacci in fogna perché essendo quelle condotte molto piccole non riescono più a sopportare il peso il carico di tutti quanti di tutti gli immobili però noi parliamo dell'almone vero consigliere Estelitano si distrae però buttare la mano e buttare il sasso e nascondere la mano è vero via della Valcaricia come hai detto via della Valcaricia giusto? Valcaricia Valericia è zona sua io parlo di via Spatola che è la stessa cosa è un'altra cosa è un altro fosso è un altro fosso via Casal Paoloni è un altro fosso dove quando ci stanno gli acquazzoni di oggi che cosa fa? c'è un'esondazione è vero si riallagano tranquillamente noi giustamente riqualifichiamo l'almone per carità fa parte passa vicino quarto miglio poi mi sembra pure giusto che venga riqualificato però nessuno pensa vero Assessore? eh non che Vice Presidente nessuno pensa ad intervenire su via Spatola nessuno pensa ad intervenire ancora con i consorsi che non possono intervenire se il Dipartimento non gli dà l'autorizzazione ad intervenire per piccole opere giusto? mi dica Assessore se sbaglio e il problema diventa molto molto serio serio perché sì è vero che noi riqualifichiamo una parte per carità aggiustiamo l'almone facciamo il depuratore facciamo tutto quello che ci pare quindi quella zona la mettiamo in sicurezza però a Valle a Valle via Spatola via Casal Paoloni via Casal Antognoni via cioè tutte queste zone rimangono con i fossi aperti e sono quei fossi che ci creeranno molti problemi e poi comunque io ringrazio la Commissione che ha lavorato bene però giustamente come dice il Consigliere Selidano che dà la botta e nasconde la mano perché così si dice ha visto è venuta spontanea scusate ti prego ti prego per cortesia signor Presidente signor Presidente che lei lei è il garante visto che è il direttore è il garante di questo Consiglio se io vado a prendere questo documento e vedo lo sbarramento a destra con la freccia che mi indica sotto un quadrato che mi indica mi copri 5 milioni di euro un po' di x un po' di y ma che devo leggere qui è stato già chiarito dopo questo Consiglio non è chiarito lei il consigliere chi è che ha chiarito il Presidente della Commissione è stato già chiarito dal Presidente Consigliere Matron per cortesia su è stato già chiarito dal Presidente della Commissione e allora poi gli faccia la domanda ma chiarisca pure lei perché io se mi ha chiarito non ho capito perché visto che mi ha messo così questo è il documento portato in aula allora è chiarito scusate nessuno ha nulla contro il fiume dell'almone tutto quanto per carità siamo tutti favorevoli credo che non ci siano problemi però vorremmo un attimo di attenzione a Sessore Morgia nonché il Vice Presidente anche agli altri fossi che purtroppo stanno creando seri problemi è vero che è un problema dei frontisti per carità è anche vero che Via Spatola Via Spatola fa parte della provincia però quello che chiedo sempre quello che chiedo Via Frassica Via Spatola quello che chiedo noi a livello municipale noi consiglieri tutti uffici tutti assessori tutti e quanto più ne metta che abbiamo fatto abbiamo scritto alla Polizia Municipale la Polizia Provinciale dicendogli dovete intervenire su Via Spatola perché i frontisti devono pulire i fossi sono obbligati perché la provincia è competente sui fossi su cui tratti di fossi e pertanto noi dobbiamo intervenire io l'ho chiesto più di una volta alla Presidente di intervenire per mettere un punto fermo un punto fermo che credo che sia a beneficio di tutti quanti però mi sembra che qui si parla si parla fino a quando non c'è la famosa esondazione si allagano tutti un metro di acqua dentro le case tutti si incavolano e noi andiamo a fare la passeggiata con le zattere per vedere i danni che hanno creato con le zattere perché ci abbiamo i zattere ormai ci abbiamo più niente allora chiedo Assessore a parte il fiume però il fiume dell'almone però io gradirei da lei d'accordo col Presidente dei lavori pubblici che venga convocata una bella commissione dove venga invitata anche la provincia per sapere quali sono quali strumenti ha il municipio quali strumenti ha la regione quali strumenti ha la provincia per far sì che eliminiamo diciamo questa tragedia perché voi forse a Bermicino non so se ci siete andati ci è andato l'assessore lo so ho buttato là però c'è andato c'è andato il Presidente guarda meglio c'è andato o c'è andato c'è andato le ville le ville le ville che si hanno pure un certo valore stanno con le paradie stagne cioè con le paradie davanti alle porte ma è non possibile con le paradie davanti alle porte davanti ai cancelli la gente che quando piove c'è la paura che vengono alla terra e deve tirare su le paradie sessore questo è grave con i sacchi di sabbia e tutti dicono sì tutti sbattano la testa però quelli continuano a mettere i paradie continuano a mettere i sacchi di sabbia esatto quindi oggi oggi passa il fiume dell'almone perché giustamente è risentito perché quello che va bene ma domani vorrei vedere in questo consiglio che ci sia pure un atto un atto che che dica influisca influisca sul comportamento della provincia che non sta facendo nulla perché presidente vicepresidente assessore la provincia secondo me ma è cosa che esiste quel fosso se nessuno gli dice che sta là che c'è le sondazioni che ci sono i frontisti che non puliscono è una cosa grave questa noi non andiamo perché io chiederò adesso alla commissione trasparenza la commissione trasparenza che vengono a fare eeeh se te la colpevole che devo fare scusate chiederò così vado a concludere su chiederò la trasparenza che tirano fuori gli atti con i quali il municipio il municipio ha sollecitato un intervento alla provincia non l'ho capito scusi consiglio matronola per cortesia scusate per cortesia per fanno le smorfi consiglio matronola per cortesia quindi quindi sarà questo l'oggetto d'accordo dell'ordine del giorno della commissione per vedere se effettivamente ci stiamo muovendo sugli altri due fossi che sono fossi importanti quanto all'almone che l'almone è più lungo senz'altro ma quello che sta succedendo all'altezza di Morena di Vermicino credo che sia abbastanza grave e credo che l'assessore è al corrente di tutto questo perché sa che poi l'assessore e poi mi taccio l'ingegnere Martorelli credo che abbia detto qualcosa sull'intervento del fosso sul Casal Paoloni al consorzio grazie si dovrebbe informare grazie consigliere matronola un attimo e dopo lo faccio però siamo sull'argomento però per cortesia tra l'acqua eh scusate è al mone o a Casal Paoloni credo che non c'entra per cortesia perché non c'entra niente perché non c'entra niente per favore su quindi assessore io l'ambiterò di giustamente a far convocare la commissione per valutare un po' tutta la situazione perché effettivamente abbiamo dei fossi che credono che erano vendetta grazie signor Paolo altri interventi non ce ne sono no presidente scusi signor Perisario prego dopo gli interventi dei colleghi non ho capito se dobbiamo votare se è il caso di votare quest'atto perché chiedono una commissione congiunta allargare quindi vorrei capire chiedendo anche un minuto di sospensione perché onestamente non ho capito com'è la situazione scusate quindi vorrei capire vorrei capire un attimo io ho chiesto maggiore attenzione anche sugli altri posti a un fiume al monere che oggi è un argomento attenzione agli altri ma non è detto che oggi in seguiti chi ha detto che non bisogna votare ed era disattento come il Consiglio del Seidano state un po' più attenti in questo Consiglio che lo vedo un po' abbastanza assenti grazie scusate prego allora certo certo allora ci sono altri interventi all'imbarita quello che ha detto il Consigliere Berlissani io credo che è stato chiarito all'inizio c'è stato diciamo un discute tra Commissione e Secretario e Commissione l'atto è questo ma sono riscritti bene però io credo che si possa ugualmente portare in votazione allora ci sono dichiarazioni di voto questi interventi ci sono più dichiarazioni di voto Consigliere Turino e Ristacini Camarino la lista civica è naturalmente favorevole a questo documento ed è molto importante che arrivi al voto un documento per risanare una via d'acqua che non è solo un bene ecologico ma è un bene culturale e un bene sacro del nostro territorio quindi la lista civica voterà favorevolmente grazie altre dichiarazioni di voto Consigliere Renci prego grazie Presidente buonasera a tutti come gruppo messo sicuramente voterò a favore e quindi non ho nessun diciamo nessuna cosa da aggiungere a quello che è stato detto l'unica cosa è che mi voglio augurare che appunto anche i problemi che sono stati sollevati dopo e quindi per quanto riguarda gli altri fossi quindi stiamo parlando della zona diciamo Ponte Linari Vermicino di fare un lavoro molto più approfondito in quanto ci sono io sono andata anche sul territorio per vedere ci sono però delle problematiche molto ampie perché lì abbiamo degli abusi di lizi abbiamo una costruzione che è stata fatta un po' di anni fa dove proprio c'era il flusso del fiume quindi se vogliamo fare un lavoro corretto dobbiamo vedere tutte le problematiche sia i frontisti che sicuramente non puliscono e quindi bisognerà fare anche questo purtroppo nella parte proprio accanto superato appena Ponte Linari lì c'è anche una parte dove c'è una discarica e quindi sarebbe il caso perché è veramente una zona molto 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 abbandonata quindi se vogliamo portare diciamo un contributo però dobbiamo anche vedere tutte le problematiche è sicuramente un tavolo dove ci sono tutti gli organi competenti con ognuno con la propria responsabilità i cittadini lì sono veramente preoccupati perché ci sono delle persone anziane ci sono delle case che purtroppo è vero che sono nate in età sono un po' vecchie e quindi sono anche condonate e quindi sono nate abusivamente però ci sono e quindi spero e mi voglio augurare che noi prendiamo questo impegno perché i cittadini lì stanno aspettando una risposta dal nostro municipio non abbiamo spesso competenze però se riusciamo a coinvogliare tutte le forze che hanno le competenze forse riusciamo a trovare anche dei risultati sul territorio grazie grazie consigliere Ciancio Pettichi prego grazie presidente no come dire per puntualità e quindi proprio per questo devo fare una dichiarazione di voto di forma non solo rispetto io sugli atti che porto in aula fanno il vero consigliere Ciancio diffondo consigliere Ciancio un attimo solo lei ha detto vuole fare dichiarazione di voto rispetto al gruppo PD faccio una dichiarazione mia personale quindi diffondo dopo i gruppi non so se diffondo perché qualcuno facciamo intervenire consigliere Ciancio per cortesia io faccio la dichiarazione di voto allora prima facciamo la dichiarazione di voto nei gruppi poi quelle personali allora la regola è questa allora gruppo PD prego c'è una dichiarazione di voto consigliere Guigliotta prego il gruppo del partito democratico è favorevole a questa risoluzione grazie consigliere Guigliotta altre dichiarazioni di voto dei gruppi consigliere Ciancio ho detto io devo prima far esprimere i gruppi poi quelle personali allora altri gruppi non ci sono allora consigliere Ciancio indiformità del gruppo PD prego indiformità del gruppo PD perché non ha non c'era nessuno presente durante la commissione nella commissione si è puntualizzato il fatto che doveva verificare delle cose e riportarle in commissione questa risoluzione riverificare un aspetto importantissimo se è la CEA che ha richiesto il finanziamento o era la regione Lazio per cui siccome mi perdoni sono in dichiarazione di voto quindi quindi io per l'alto senso del rispetto del lavoro su un argomento corretto portato su una risoluzione in cui l'argomento di che trattasi io non l'ho messo a fuoco voglio dire che non mi vorrei esimere dal votare ma sono costretto ad assenermi per il fatto che non è chiara e invito tutti a capire se è vero che la regione ha richiesto questi finanziamenti se il delegato ai parchi ha fatto questa verifica o è andato alla CEA per verificare questa roba quindi questo fatto è importante e allora invito invitavo perché adesso siamo in dichiarazione di voti a fare una risoluzione corretta puntuale per portare a casa il risultato fine il mio voto è di astensione nel senso per l'alto senso che ho del lavoro degli altri dichiarazioni di voto non ci sono più consigliere ma troppo prima avevamo detto i gruppi che vogliono fare dichiarazione di voto nessun gruppo è più intervenuto siamo passati a dichiarazioni individuali consigliere faccia la dichiarazione di voto faccia la dichiarazione di voto non mi costringa sia caro allora dopo mi dispiace consigliere Ciancio però è una cosa che riguarda tutto il territorio cioè assenersi su questa situazione fare una difformità mi sembra una cosa io dopo la sua dichiarazione posso dire che Forza Italia ha vota favorevole siamo tre però è uguale dopo era in dubbio ma dopo vota favorevole è lui che mi sta a suggerire perdonateci non ci sono altre dichiarazioni passiamo chi è favorevole scusate scusate chi è contrario chi si aschiene consigliere Ciancio allora 19 voti a favore un'ostenuta e nessun contrario quindi l'atto è approvato mozione articolo 58 criteri di partecipazione ai banti municipali consigliere Coglia prego sì questa mozione dovrebbe diciamo toccare il senso comune di giustizia che viene utilizzato in alcuni criteri di gare d'appalto in alcuni criteri di gare d'appalto con lavori pubblici si chiede nei criteri di partecipazione ai bandi qui richiamando una sentenza del Tar il codice d'appalti articolo 38 che riporta i requisiti generali partecipanti ad appalti pubblici tenendo conto che il comune e i municipi dovrebbero premiare quelli che rispettano la legge e viceversa escludere coloro che la violano chiediamo impegniamo il presidente della giunta del municipio a escludere nella stesura dei bandi delle gare gli affinamenti municipali e a segnalare ai dipartimenti competenti per i bandi legare gli affinamenti comunali tutte le persone associazioni comitati e organizzazioni per le quali sono stati rilevati abusi edilizi e o accertate violazioni delle leggi vigenti al punto 1 al punto 2 chiediamo di informare tempestivamente le commissioni competenti e il consiglio con congruo anticipo delle evidenze di cui al punto 1 non dovrebbe essere necessario presentare un atto di questo tipo se non fosse che in alcuni casi abbiamo ravvisato che sono stati affidati servizi a enti associazioni non vogliamo dire nomi che dovevano essere esclusi perché avevano alcuni di questi abusi quindi chiediamo al consiglio di suggerire alla presidente e agli organi esecutivi di operare in questo modo perché riteniamo che in questo momento più che mai sia necessario il rispetto della legge grazie grazie consigliere Coglia allora apriamo la discussione chi vuole intervenire allora ci sono interventi passiamo alla dichiarazione di voto ci sono le dichiarazioni di voto non ci sono dichiarazioni di voto passiamo alla votazione chi è chi è favorevole all'atto per cortesia giudiamo la segretaria per cortesia scusate consigliere Cercone un attimo solo per cortesia siamo in votazione allora chi è contrario chi si aschiene che coraggione grazie 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 Siete voti a favore, 17 astenuti, nessun contrario, quindi non è approvata. Allora, prima di passare alle interrogazioni ci sono degli insegnanti di Asire Nito che mi hanno chiesto due minuti per poter esporre le loro preoccupazioni, quindi sospendo un attimo di consiglio per due minuti e do la parola a uno di loro. Prego. Grazie. Buonasera, sono Daniela Arborini, sono la titolare di Un Nido in convenzione con Roma Capitale. Intanto vi ringrazio di questa opportunità. Da mesi noi stiamo rivendicando il nostro diritto di lavorare secondo parametri di qualità e di legalità. E questo al momento, lo dichiariamo da tempo, è impossibile per le tariffe che ci vengono corrisposte dal Comune. In più, volevamo porre l'attenzione sull'enorme numero di nidi privati che non sono autorizzati e che continuano a lavorare su tutto il territorio romano. Questo è quanto. Grazie. Faccio presente che questo Consiglio su questo argomento già si è espresso anche con un atto, una risoluzione nel 2014. Quindi tiene ben presente il problema. Grazie a lei. Allora. Fuori Consiglio. Prego. Due minuti per me. Sì, sì, no, sarò brevissimo. Ringrazio il Presidente Villa che mi ha dato l'opportunità di aggiungere fuori Consiglio una valutazione. E a rinforzo di quello che diceva il Presidente Villa, in totale solidarietà con l'informazione che ci avete dato, sottolineo che la Giunta di questo Municipio e il Consiglio di questo Municipio sono gli unici che a Roma hanno espresso un atto istituzionale che andasse in quella direzione. C'è la verifica dei requisiti che regolano oggi le convenzioni per il superamento della 244. Questo è un ringraziamento che va non solo ai colleghi assessori della Giunta quando hanno approvato la memoria che ho portato in Giunta, ma anche a tutto il Consiglio, perché non in tutti i consigli, anzi in nessun altro Consiglio dei Municipi di Roma Capitale hanno fatto un atto che chiedesse il superamento della 244. E quando l'atto è arrivato in Consiglio Comunale, non è stato perfezionato così come era stato proposto e partorito, perché ha teso a fare solo una valutazione di quelli che sono i costi reali ed effettivi, nominando una commissione che sta lavorando e di cui continuamente chiediamo conto. Però va dato probabilmente merito al Consiglio del Municipio 7, che è stato l'unico che su questo argomento ha preso una posizione seria, che è ferma e a sostegno di un'avvertenza che è nell'interesse di tutti, perché ha a che fare con il benessere dei bambini e anche degli operatori che lavorano nei servizi. Grazie. Grazie, Assessore. Allora, riprendiamo il Consiglio. Che cosa? Fuori Consiglio era. Prego. Allora, riprendiamo il Consiglio e entriamo con le interrogazioni. e se faccia opposizione. Allora, interrogazione numero 63, a firma dei consiglieri Lozze e Coglie, riguardante il parco Anagnina. Chi rappresenta? Numero 63. Riguardante il parco Anagnina. Ho visto i mesi che ha soggiornato per il suo ufficio Consiglio, ma ero quasi dimenticata di questa interrogazione. Allora, praticamente parecchi cittadini della zona romanina mi hanno chiesto personalmente di avere notizie in merito al parco Anagnina. C'è un progetto che è stato concepito con gli oneri concessori del piano di zona ex legge 167, un parco che è stato dotato di tutto, quindi fontanelle funzionanti, piazzole per panchine, alberi, impianti di irrigazione, ma che è rimasto totalmente chiuso e in stato d'abbandono. Allora, quello che noi chiediamo e che vorremmo sapere è come mai che a tutt'oggi questo parco non può essere fruito dalla popolazione e che cosa si intende fare affinché venga aperto nel più breve tempo possibile. Grazie, Consigliera Lozzi. Sessora Lorgia, prego. Signor Presidente, Consiglieri, l'interrogazione formulata e esposta dalla Consigliera Lozzi del Movimento 5 Stelle contempla uno degli argomenti, una delle purtroppo negatività che questa amministrazione riscontra nel momento in cui dall'attuazione di opera scomputo magari derivanti da piano di zona 167 come questo caso o dall'ottizzazione convenzionale o da altro passa un tempo troppo lungo per la presa in carico da parte dell'amministrazione comunale. Questo determina, non è questo il caso, talvolta ma anche il deterioramento delle opere stesse con contenziosi che portano l'amministrazione di Roma Capitale ad andare per lunghi anni spendendo risorse ma soprattutto in moltissimi casi assistendo a un deterioramento delle opere stesse pubbliche stesse in contenziosi con gli operatori economici che l'hanno realizzati in questo caso c'è stata da parte degli uffici municipali ancorché lo devo dire questa è un'area verde che per le sue caratteristiche attiene alle competenze del Dipartimento Ambiente e dovrà essere presa in carico dal Dipartimento Ambiente fino a una ricognizione preliminare alla fine del 2012 da parte del Dipartimento Pau in cui hanno partecipato in spirito collaborativo anche gli uffici municipali formulando quelle prescrizioni e diciamo quelle osservazioni che secondo gli uffici municipali erano propedeutiche alla presa e in missione in carico dal patrimonio comunale di quest'opera dell'area verde all'inizio del 2013 nel primo semestre del 2013 gli uffici municipali io lo ribadisco perché poi quando c'è qualcosa da dire la si dice ma con spirito propositivo hanno solucitato sempre gli uffici dipartimentali competenti rispetto all'ottemperanza di tale osservazioni a tutt'oggi l'ultima nota del Dipartimento della Programmazione e Attuazione Urbanistica che a cui fanno capo ancora le opere che non sono immesse al patrimonio comunale derivanti come dicevo prima delle trasformazioni urbanistiche ha inviato una nota a noi per conoscenza proprio per queste sollecitazioni che ci sono state nel corso di questo tempo non ultima quella dell'interrogazione di cui oggi discutiamo a tutti gli organi di Roma Capitale in primis al Dipartimento Patrimonio che convoghi una riunione per poter determinare la presa in consegno da parte di Roma Capitale di quest'area è chiaro che questo è il primo passo affinché l'area sia manutenuta dignitosamente e possa essere fruita dai cittadini questa è stata l'azione che il municipio ha in questo lasso di tempo esercitato come sollecitazione agli organismi competenti che sicuramente me ne dimenticherò qualcuno ma sarà Dipartimento Pau Dipartimento Ambiente Dipartimento Patrimonio e tutti coloro che potrei che società di servizi ACEA probabilmente proprio perché come diceva la consigliere il parco è dotato di fontanelle che possano ognuno per la propria competenza prendere parte di quel patrimonio in carico per poterlo far fluire ai cittadini continueremo su questa strada per poter stimolare questa presa in possesso da parte di Roma Capitale di quest'area grazie consigliere la nozze ci fa sicuramente piacere che ciò che era nelle possibilità degli organi municipali sia stato fatto speriamo che il comune faccia il suo dovere il prima possibile anche perché un'area così bella così grande così utile per la cittadinanza è veramente un peccato che sia chiusa grazie grazie a lei passiamo alla numero 64 sempre a firma dei consiglieri Lozio e Coia riguardanti le problematiche inerenti di facimento del manto stradale di via coscolana dal perso vicino città all'incrocio con via Gela che rappresenta consigliere Coia scusi sono ancora un po' scosso perché ho preso che la maggioranza non è a favore della legalità e allora questa interrogazione ci giunge perché sono giunte numerose segnalazioni sulla pericolosità dei lavori di rifarecimento del manto stradale e sulla qualità del lavoro eseguito in tutto il territorio del settimo municipio in particolar modo sulla via Tuscolana da piazza Cinecittà fino all'incrocio di via Gela le coperture temporanee delle corsie interessate ai lavori sono state eseguite in modo pessimo sottoponendo a grave rischio la percorrenza soprattutto per ciclo e ciclomotori è stata riscontrata anche dai sottoscritti sulla stessa tratta la posa in opera a caldo dell'asfalto anche durante i fenomeni di pioggia intensa che è contrario ai capitolati d'appalto in una lezione stradale considerato che il capitolato speciale d'appalto appunto vieta la stesura con fenomeni di pioggia il codice della strada impone segnalazioni idonee a evidenziare il restringimento della gareggiata la pericosità di strettoie e in particolar modo di attraversamenti e impianti semaforici segnalazioni luminose e che i lavori tenuto conto che i lavori si proteggono da quasi un anno hanno causato rallentamenti da viabilità e tamponamenti tutto ciò premesso e considerato si interroga la Presidente dell'Assessore per sapere cosa intendono fare per pretendere la posa in opera dei lavori a regola d'arte anche per le coperture temporanee cosa intendono fare per scongiurare i ripertesi della posa in opera scusate durante fenomeni di precipitazioni piovose cosa intendono fare per minimizzare i tempi di esecuzione e il disagio per la cittadinanza grazie 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 Consigliere Coglia Assessore Morce per favore prego mi scusi Consigliere la questione dei ripristini io mi perdonerai il Consigliere sicuramente è un tema importante perché come sapete in tutta la città l'Italgas nel 2014 ha steso più di 100 km di nuove linee del gas per cui tutta la città è stata investita da questo tipo di lavori e di servizi che molte volte hanno fatto trascorrere troppo tempo per la loro completa definizione posso dire che recentemente sfruttando anche la sosta dei lavori che solitamente si ha nel periodo natalizio ho chiesto agli uffici una ricognizione della situazione e in questa ricognizione noi abbiamo circa 50 strade che devono essere ancora interessate dai ripristini definitivi io mi permetto di dire anche perché le verifiche fatte puntualmente dagli uffici e con decine anche di rilievi fatte alle società di servizio me lo permettono poi me ne assumo la responsabilità logicamente molti cittadini confondono la qualità del ripristino tra il provvisorio e il definitivo molti dei lavori che sono stati fatti e che magari i cittadini giudicano non a regola d'arte sono dovuti al ripristino provvisorio che ancorché provvisorio però determina nel corso del tempo qualche assestamento che viene superato successivamente con il ripristino definitivo quello che posso dire è che sui ripristini definitivi proprio questa ricognizione ha determinato che diciamo l'Italgas e lo dico con molta trasparenza dovendo ottemporare e ottemperare nel confronto di Roma Capitale alla stesura di chilometri di cale così come da contratto ha lasciato indietro anche perché nell'ultimo periodo dell'anno come così purtroppo in questo periodo il tempo non è stato così favorevole il ripristino definitivo posso garantire il consiglio e i consiglieri che gli uffici municipali di via Forti Pioca e di via Sacini Città rispetto alla messa in esercizio dei ripristini stanno esercitando tutti gli strumenti avverso alle società di servizi per poter colmare questo tipo di ritardo sulla questione di via Tuscolana da via Tuscolana da piazza Cinecittà a via Gela a me sembra che laddove si sia realizzato il ripristino definitivo la situazione dei manti stradali sia così almeno gli uffici dicono fatta a regola d'arte sufficientemente bene ci sono alcuni tranti lo dicevo anche prima troppi a cui il ripristino definitivo deve ancora essere messo in esercizio di lavorazione e su questo cercheremo di lavorare nel miglior modo possibile grazie consigliere Colla prendo atto della risposta dell'assessore che sono stati fatti controlli quello che lamentavamo e ribadiamo è che in alcuni casi nei ripristi definitivi sono stati posti in opera l'asfaltatura durante la pioggia e quindi verrà no 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 personalmente ho visto la stesura del definitivo ma potrei dire il 90% dei casi è fatto bene il 10% è fatto male se voi mi indicate il tratto io faccio una richiesta specifica agli uffici e per questo le farò sapere le ringrazio scusate per favore prego per quanto riguarda invece il protarsi degli interventi temporanei penso che sia inaccettabile che alcuni tratti di una tratta con una tuscolana che è altissima viabilità si durino 3-4 mesi perché alcuni tratti sono da 3-4 mesi e anche di più alcuni e fatti malissimo perché temporaneo non vuol dire che deve essere una trappola perché io dico che un ciclomotore cioè se lei vede al tratto potrei dire trannomidio quadrato e lucio sesso ci sono dei dossi molto pericolosi che possono causare anche degli incidenti in altri casi poi ancora sono stati fatti i lavori tre volte tre volte perché lì dal gas si è accorta che non li ha fatti bene quindi almeno in un caso poi farò sapere magari dove con foto è stato anche ribucato l'asfalto definitivo per rifare un altro intervento talvolta per fare gli strampi cioè gli allacci per si contro quindi diciamo secondo me questo è non operare a regola d'arte quindi noi e voi dovete vigilare su questa situazione perché è insostenibile per i cittadini tutto questo grazie passiamo all'interrogazione numero 1 firma del consigliere Tutino riguardante l'esercizio abusivo di attività per l'infanzia prego Grazie Presidente Assessori da molti anni ormai e anche in questa consigliatura per quanto ci è possibile denunciamo la situazione inaccettabile in cui versano i servizi per l'infanzia nel Comune di Roma in particolare nel caso in questione abbiamo appuntato la nostra attenzione all'esercizio abusivo di attività per l'infanzia che è uno degli strumenti che negli ultimi anni si è scientemente adoperato a partire dai vertici dell'amministrazione comunale dall'allora assessore alla scuola del Comune e poi accaduta lungo tutto l'amministrazione per operare una concorrenza sleale e un dumping nei confronti degli esercenti regolari ovvero si lascia mano libera agli esercenti abusivi per abbattere i prezzi e portarli al di sotto dei valori di legalità tutto questo mentre la stessa amministrazione comunale continua a corrispondere cifre che rendono impossibile anche per i convenzionati e anche per quelli che lavorano regolarmente operare in termini del tutto legali questo lo stiamo denunciando in ogni sede e quindi interroghiamo l'assessore abbiamo interrogato l'assessore per conoscere quale sia stato l'operato di questa amministrazione nei confronti degli esposti presentati in tali termini grazie prego l'assessore 5 minuti grazie presidente consiglieri allora in realtà come dire non è facile dare una risposta completa rispetto all'operato degli uffici e al mio in soli 5 minuti perché l'operato è stato intenso cioè c'è stato un ampio carteggio nell'ultimo anno e mezzo scusi presidente il suo collega è rigiunta che dà fastidio e l'assessore Morcia l'assessore Antonelli si lamenta per cortesia prego l'assessore grazie prego l'assessore Antonelli l'attività di verifica rispetto alle segnalazioni di cui parlava il consigliere Dutino è stata abbastanza intensa se dovessi partire dalle conclusioni di questa attività di indagine e verifica dovrei dire che ad oggi non esiste un nido che esercita abusivamente in questo municipio questa è la conclusione a cui io dovrei arrivare dico dovrei perché vi vado a citare una serie di atti che si sono conseguiti in questi mesi rispetto a cui condivido le perplessità del consigliere Dutino che sono poi le stesse perplessità che i cittadini presenti in sala hanno espresso prima durante la pausa di consiglio perché io sono stato investito ufficialmente Assessore per cortesia su vado avanti scusate Assessore vado avanti consigliere per favore siano sereni come dice qualcuno prego Assessore Allora dicevo sono stato investito di questa attività di indagine solo a fine ottobre del 2014 con una mail che mi è arrivata il 28 ottobre in cui si chiedeva conto di un esposto formulato da un cittadino nei confronti del comando della polizia locale di questo municipio e per conoscenza anche all'Uosex e altre autorità in cui io non ero in copia esposto presentato il 6 di giugno 2014 rispetto al quale alla data del 28 ottobre il giorno in cui mi perveniva la mail il cittadino in questione non aveva ancora ricevuto nessuna risposta quindi mi si chiedeva un intervento per verificare come mai non ci fosse stata risposta e di divenire una risposta che fosse il più completa possibile siccome però nel frattempo un po' perché mi interessa conoscere quest'ambito un po' perché qualche voce di corridoio l'avevo ricevuta avevo già chiesto precedentemente al comando di polizia locale se fossero stati fatti nei mesi precedenti dei sopralluoghi delle verifiche delle indagini le stesse richieste avevo fatto all'ufficio scuola del nostro municipio per quanto riguarda il comando di polizia locale rispetto a precedenti verbali di ispezione e verifica mi ero stato informato che erano state rilevate alcune difformità prevalentemente rispetto al fatto di esercizio di attività di refezione in assenza dei permessi per erogare i pasti per quanto riguarda sia la fascia d'età 18-36 mesi sia anche 36 mesi 6 anni solo in un caso veniva notificato l'incirca ottobre del 2013 alla nostra Vosex che una verifica aveva individuato un nido che si eccitava abusivamente in quanto in particolare erano le elisabettine in quanto sprovvista della relativa autorizzazione da lì nasce un documento che l'ufficio Vosex invia a novembre 2013 quindi un anno e mezzo fa alle elisabettine in cui si chiede di adempiere entro 20 giorni alla regolarizzazione della loro posizione diversamente da questo si sarebbe disposta la chiusura adesso quello che è successo dopo che io sono stato sollecitato e che ho formalmente scritto ho formalmente scritto sia alla Vosex che al comando dei vigili per chiedergli l'esito delle eventuali verifiche e dei relativi quindi dei relativi esposto e l'Uosex mi ha risposto il 10 novembre citandomi solo una vicenda che era proprio questa relativa alle elisabettine vicenda per cui il municipio aveva scritto a novembre 2013 e tenuto conto che io ho acquisito la risposta il 10 novembre 2014 i 12 mesi non erano stati necessari e sufficienti a completare la documentazione prevista e a ottenere l'autorizzazione di nido da qui ho pensato che quindi la prassi fosse che in corso d'opera cioè quando si perfezionano i documenti il municipio anche nell'interesse delle famiglie come dire attende che i documenti si perfezionino andando lì a verificare la buona la buona volontà di chi è stato colto in flagrante nel compiere un'opera non autorizzata però siccome avevo sentito parlare anche di altre strutture ho mandato successivamente a questo il 25 novembre una lettera e solo questa la voglio leggere perché nei 5 minuti cioè io vi avrei letto tutto il carteggio che cospico però il tempo è poco la vi leggo solo quella che ho inviato il 25 novembre all'ufficio cosex di questo municipio perché ci tenevo ad avere un'informazione più completa e corretta possibile gentile dottoressa ringraziandola per la nota con cui questa domanda del 25 novembre protocollo 23 15 48 ringraziandola per la nota con cui in data 10 novembre ultimo scorso mi aggiorna su alcuni atti presentati da uno dei nidi oggetti dell'esposto devo chiedergli alcuni approfondimenti come già nella precedente nota le chiedo cortesemente di informarmi su quali atti il nostro municipio ha prodotto a decorrere dal giorno 14 novembre 2013 data in cui abbiamo diffidato il esore Francescana e Lisabettini da continuare l'attività se entro 20 giorni non è stato consegnato la richiesta di autorizzazione relativi documenti e anche di capire se ad oggi sono autorizzati oppure no mi corre l'obbligo di fugare ogni insinuazione già pervenutami in merito all'ipotesi che abbiamo soprasseduto sui tempi e sui modi di regolarizzazione dell'attività in parola certo che come lei mi evidenzia nella nota del 10 novembre i nostri uffici vigilano attentamente sulle caratteristiche tecniche sul grado di sicurezza igiene e funzionalità che presenta nel locale di Bida di Sino Unito le chiedo di formirmi un report che da settembre 2013 ad oggi evidenzi tutto quanto agito sui casi dubbio sulle segnalazioni per verificare la sussistenza di permessi e autorizzazioni sulla materia in oggetto relativamente a strutture del nostro territorio elencandomi quali e quante verifiche abbiamo fatto e gli atti seguenti alle stesse compreso quelli relativi alle strutture oggetto dell'esposto di quella precedente nota in questo periodo di grande diffidenza nei confronti della pubblica amministrazione certo della correttezza dell'operato dei nostri uffici ma è molto utile acquisire tutta la documentazione per essere in grado di dimostrare la correttezza e la parità di giudizio che agiamo in ogni situazione successivamente a questa nota del 25 novembre mi perviene il verbale di verifica del comando di polizia municipale Assessore i tempi sono già 6 minuti Presidente però i tempi sono quelli Presidente però non stiamo discutendo della cosa ma serve la risposta per cortesia hanno completezza alla risposta i tempi per rispondere all'interrogazione al Parlamento per 3 minuti dicono tutto i tempi sono 5 minuti io ho già dato 6 minuti un altro minuto e poi chiude va bene dal verbale dei vigili non si verificano riformità particolari i verbali del 4 dicembre poi mi arriva una nota sempre del ufficio Vosex successiva a questa del 4 dicembre del 9 dicembre dove emerge un paradosso che sinceramente non ho capito perché quindi qua mi crea una confusione rispetto a quanto dicevo prima due casi in particolare quello dell'Elisabettina e quello dell'associazione Lilliput l'associazione Lilliput via di Rocca Bernarda è stata diffidata all'attività e chiusa fino a che non ha regolarizzato l'Elisabettina no non pago ho fatto con mia moglie qualche telefonata così dico visto mai che faremo un bambino e non troveremo posto nelle strutture pubbliche in alcune delle strutture in elenco dell'esposto e in quasi tutte mi è stato risposto che avrebbero raccolto bimbi di 11 mesi quindi ben sotto i 18 mesi questa però è un'attività di indagine personale purtroppo non ho la stella da sheriff quindi non posso intervenire in queste strutture in assenza di verbali e di notifiche da parte degli uffici competenti quindi io quello che posso fare è continuare a vigilare e chiedere agli uffici di farlo ma non sono dotato della stella di sheriff di questo mi dispiace grazie assessore consiglio Tutino per contesi tre minuti ringrazio l'assessore che pur nei tempi troppo stretti per la questione ha mostrato come il suo assessorato abbia operato in piena correttezza ma qui c'è un problema estremamente grave ovvero che gli uffici pur a fronte pur a fronte di segnalazioni ben chiare e di di fide non hanno operato come necessario e come promesso se da novembre 2013 vi erano strutture che avevano 20 giorni di tempo per chiudere sono tuttora aperte e se vi sono altre strutture che continuano a operare mettendo in pericolo l'integrità psicofisica ed igienica nonché dei bambini nonché operando un ingiusto dumping nei confronti degli esercenti regolari a questo punto dico che se ne dovrà occupare grazie all'istruttoria compiuta dall'assessore se ne dovrà occupare la magistratura e dovrà la magistratura occuparsi del lavoro dei nostri uffici che non hanno provveduto come risulta dalla risposta a chiudere quegli esercizi abusivi che andavano chiusi e che gli stessi uffici avevano dato 20 giorni di tempo per mettersi in regola è passato un anno a questo punto credo che il magistrato dovrà interessarsi della situazione ringrazio ancora l'assessore per la correttezza estrema con cui ha affrontato questo problema scomodo grazie grazie interrogazione numero 3 film dei consiglieri Lozzi e Coglia riguardante legibilità e la sicurezza dei locali centro social anziani in città chi la presenta consigliera Lozzi allora visto che poco tempo fa mi sono nuovamente trovata nella cassetta della posta praticamente della posta istituzionale una petizione sottoscritta da 132 utenti del centro anziani Cinecittà che chiedevano prima di qualsiasi candidatura per le nuove per il nuovo consiglio la certezza che il municipio prendesse l'impegno di rimettere in sicurezza rendere agibili i locali del centro anziani Cinecittà chiediamo con questa interrogazione di sapere ad oggi qual è la situazione grazie grazie consigliera Lozzi anche per la capacità di sintesi consigliere assessore Morcia prego grazie consigliere mi dà l'opportunità di intervenire su questo tema su cui la giunta ha lavorato ricorderete tutti anche quella seduta in cui gli anziani vennero qua anche a mostrare il proprio disappunto rispetto alla pseudo di chiusura del centro anziani che poi come tutti sappiamo non ha mai chiuso io mi permetterete una digressione ma un aspetto politico questa vicenda ce l'ha ma non solo per i centro anziani di Cinecittà ma tutti i centri anziani io credo che tutti quanti noi la giunta in primis ma anche l'intero consiglio debba usare un minimo d'accortezza quando nel rapporto con i centri anziani si va nell'interlocuzione perché questo io mi permetto di dirlo diciamo per l'esperienza che ho maturato in questi anni la conflittualità dentro tutti i centri anziani è altissima e raggiunge cifre esasperate che non permettono neanche la convivenza minima che può permettere agli anziani di passare un pomeriggio una domenica un sabato in estrema tranquillità devo dire mi assumo per primo la responsabilità di questo in quanto esponente politico che molte volte siamo noi ad alimentare ancorché invece governare queste situazioni io credo che noi abbiamo un altro compito quello di governare queste situazioni di cercare le soluzioni ragionevoli che si possono intraprendere per creare le migliori condizioni dentro i centri anziani e l'unica cosa che non dobbiamo fare è di quella di essere partecipi di questi conflitti che naturalmente esplodono diciamo con cadenza periodica dentro tutti i centri anziani dovremmo secondo me tutti quanti noi usare un po' più di calma non schierandoci ma cercando di andare alla radice dei problemi questo è un appello che faccio prima di tutti a me stesso prima che al consiglio ma credo che tutti quanti noi che sono certo vogliamo il bene degli anziani del territorio dovremmo perseguire nella vicenda specifica che la consigliera poneva io parto dalla fine il 26 gennaio voi sapete che nel centro anziani c'è una città per le vicissitudini e le conflittualità che ha vissuto negli ultimi anni con le dimissioni e con il rinnovo delle cariche c'era stata una grossa difficoltà anche a far presentare gli stessi anziani per le prossime cariche e il prossimo comitato di gestione questo perché perché la conflittualità era così alta che rispetto a denunce contro denunce omissioni cattive gestioni alcuni degli anziani diciamo più intraprendenti perché poi nei centri anziani non tutti hanno lo stesso grado di intraprendenza di come dire di capacità di lavoro che serve per gestire un centro anziani alcuni sono stati sanzionati e per cui in questo rinnovo delle cariche non possono essere eletti questo ha creato un'ulteriore conflittualità che stava per come dire produrre l'effetto che non c'erano candidature per la prossima gestione voi immaginate che gli uffici si trovavano nella situazione dove il commissario era il centro un dipendente doveva assumere la gestione commissariale con tutte le difficoltà che questo comportava il 26 gennaio anche sulla spinta diciamo degli anziani che avevano fatto quella richiesta abbiamo fatto un'assemblea per accogliere delle candidature a cui ha partecipato in primis la parte amministrativa il direttore il dottor Altamura la dottoressa Gennoni gli uffici e gli anziani l'ingegnere latina per conto dell'UoT oltre all'assessore De Lillo e al sottoscritto questo perché per dimostrare che l'amministrazione nel suo complesso la politica e la parte amministrativa sono protrese a poter superare quelle criticità ormai diciamo più che decennali in alcuni casi che il centro anziani si portava appresso e questo stiamo facendo rispetto ai rilievi che i vigili del fuoco hanno fatto nella loro sopralluogo oppure quello poi magari in un'altra sede ragioneremo pure di come è scaturito quel sopralluogo dei vigili del fuoco se volete alcune delle criticità che i vigili del fuoco hanno come dire menzionato nel loro verbale sono state già superate come la copertura dell'impianto elettrico la protezione le luci di emergenza abbiamo con i cartelli monitori come dire individuato quale sono le criticità rispetto all'uscita di emergenza che cosa voglio dire a tutto il consiglio noi siamo nell'impossibilità di creare un'uscita di emergenza in quei locali perché perché i portali del centro anziano sono i portali storici di questo edificio e non possono essere come dire sostituiti da altri perché la sovrintendenza non ce lo permetterebbe per cui alcuni accorgimenti sono come dire volti a superare questo tipo di problematicità l'altro intervento importante che permetterà il completo utilizzo di tutta l'area del centro anziani così come la conoscevamo perché l'adeguamento ai 200 metri quadri è stato come dire necessario a norma di legge per poterlo far rendere fruibile in questo periodo è l'adeguamento dell'antincendio ma che badate non è un tema solo riguardante quella porzione diciamo di edificio ma più generali ci sono delle carenze dal punto di vista del quadro elettrico delle pompe che stanno diciamo per essere superati nelle prossime settimane quindi confidiamo che il dipartimento insieme prenda in carico l'impianto perché l'impianto antincendio di questa sede così come delle altre sede municipali la prende in carico l'impiantistica tecnologica del dipartimento Simo per cui l'agibilità dei 400 metri circa dell'attuale centro anziano può essere ripristinata l'altro tema su cui il sessore del fuoco è abbontantemente intanto tutto però se io mi taccio se c'era un'ultima cosa 30 secondi prego 30 secondi l'altro argomento che era l'ultimo commissione io fate voi insomma l'altra cosa l'altro elemento diciamo su cui i vigili del fuoco hanno puntato in maniera diciamo molto pregnante è l'impossibilità di accedere in maniera diretta e visibile alla pompa che sta esternamente e che è ostruita dal manufatto possiamo dirlo non regolare che è di fronte al centro anziani stiamo lavorando affinché anche questa criticità possa essere superata con l'utilizzo di altri locali che all'interno dei piazza Cinecittà 11 sono stati realizzati recentemente tutti a norma è chiaro che questo sarà un lavoro di collaborazione che noi vogliamo completare e portare avanti costantemente come giunta ma sicuramente pure come consiglio come commissioni competenti con il prossimo comitato di gestione che mi auguro il 26 febbraio venga eletto in modo di rincamminarci verso una corretta gestione del centro grazie consigliere Rozzer prego a posto ultima interrogazione consigliere Matronola riguardante il programma straordinario di recupero alla messa in sicurezza dell'utilizzo scolastica in attuazione del DGR del 295 prego consigliere Matronola 7 minuti e 7 minuti no 7 e 7 14 ma perché non impariamo un po' qual è la mia allora impariamo pure a fare politica impariamo anche a fare politica è mai possibile che un consigliere di maggioranza faccia un'interrogazione in consiglia o un'assessore della sua maggioranza dopo che è stata riunita una commissione dove c'è che c'è con la sua interrogazione consigliere Matronola ha tolto il volume con la sua interrogazione non c'entra niente ha fatto parlare per 7 minuti un assessore su un tema consigliere Matronola consigliere Matronola faccia la sua interrogazione faccia la sua interrogazione per cortesia a un consigliere di presentare un'interrogazione ha permesso un assessore di rispondere a cosa che la commissione già si è respesa ma perché il consigliere non possa fare l'assessore consigliere Matronola faccia la sua consigliere Matronola ritorgo la parola consigliere Matronola non consigliere Matronola consigliere Matronola faccia la sua interrogazione e allora il percoglione va bene faccia la sua interrogazione prego faccia la sua interrogazione e andiamo avanti prego una cosa proprio assurda è assurda ma come come si fa cioè la politica è cambiata consigliere Matronola faccia la sua interrogazione questo è tutto il consiglio fare un'interrogazione un suo assessore faccia la sua interrogazione perché non lo può fare consigliere Matronola consigliere Matronola consigliere Matronola prego la richiamo la richiamo faccia la sua grazie grazie della cortesia faccia la sua interrogazione scusi se dovete da sta parte faccia la sua interrogazione per cortesia 5 minuti ah può spegnere da dentro e poi può spegnere pure i suoi assessori no? che hanno uscito di faricare lo sforato col tempo ecco e allora se vede che non mi sta bene quando interrogo in una certa maniera caro presidente caro presidente io sono educato non mi sono espresso male e la sto facendo ci sto pensando ci ho 5 minuti per rispezzarci non credo non credo allora andiamo avanti allora l'interrogazione che è stata fatta può anche rispondere o non rispondere tanto che devo pagare la pizza ha detto giusto quindi è giusto la pizza o la ristorante quindi non è un problema no no a te no a te verrà il tempo tuo verrà il tempo tuo non ti preoccuparsi sei tranquillo che ci stiamo organizzando allora è il complotto e l'interrogazione è uscito un bando che riguardava la messa in sicurezza delle scuole con i fondi regionali sono giunte voci che due scuole dove si riparerà uno stanziamento di 500 mila euro 300 e 200 mila Cecilio II e De Curtis grazie Assessore e da loro ci arrivano pare 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 che questi soldi non sono stati questi progetti non sono stati approvati però tutto può succedere può anche succedere che qualcuno viene in commissione e mi dice ufficialmente ma è stato pubblicato sul burlo della regione Lazio per carità quale siccome stavamo a gennaio ho detto andiamo a vedere il 20 dicembre andiamo a vedere il 30 dicembre andiamo a vedere il 10 gennaio e il 20 gennaio e il 30 gennaio ma non c'è sta niente allora a meno che voi avete dei canali più diciamo un po' più 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 informatizzati e magari dietro questa interrogazione avete capito avete detto oh muoviamoci un attimo perché qua c'è qualcosa che non va vediamo un attimo quello che è successo perché potrebbe essere successo questo Assessore perché io ho circa un mese 40 giorni che sto battendomi su questi 500 mila euro per capire e per sapere però da 40 giorni a questa parte giustamente la regione Lazio non si è espressa ancora col burlo come qualcuno ha detto che era stato pubblicato ma ha detto purtroppo una scempiaggine perché non è vero però se sono stati approvati ben venga sempre ufficialmente ufficiosamente perché lei solo per via cavo ha avuto la certezza che sono stati approvati poi via cavo perché io uso il cavo voi usate il filo io uso il cavo e quindi voglio soltanto sapere se ci sono notizie in merito perché giustamente perdere 500 mila euro magari per un mero errore materiale che potrebbe essere considerata una malattivazione ordinaria quella malattivazione confusa una straordinaria non ordinaria può succedere per carità basta togliere S ordinaria straordinaria è finita S e T e quindi ve lo interrogavo l'assessore per sapere non mi devi fare leggi i documenti mi devi dire soltanto se sono stati approvati o no perché se mi comincia la filippica tre ore no si non ci stiamo grazie assessore lei so che capisce capisce il mio ruolo grazie grazie allora di certo non sono stato io a darle l'informazione che era stato pubblicato sul burle perché su questo tema da qualche mese sollecito tutto il sollecitabile quindi gli altri assessori municipali il comune l'assessore regionale affinché questa graduatoria venga ufficialmente pubblicata perché doveva uscire a giugno 2014 e viene rinviata di settimana in settimana l'unica notizia risposta più diciamo affidabile ricevuta da Regione Lazio è la conferenza stampa a cui con tutti gli assessori municipali e l'allora assessore alla scuola Alessandra Cattoi abbiamo obbligato l'assessore regionale dei Frigeri nella sala Tevere della Regione Lazio in cui congiuntamente con l'assessore Cattoi hanno dichiarato che tutti i progetti presentati da i municipi di Roma Capitale erano stati approvati quindi per un totale di 37 progetti il che comportava un aumento rispetto alla somma prevista e quindi una successiva variazione di bilancio il che aveva comportato uno struttamento dei tempi e ad oggi non siamo ancora arrivati alla pubblicazione ufficiale ma siccome so che l'interrogazione del Consigliere Matrono la verte su una peculiarità più di altra e cioè su una voce di corridoio che attribuiva ai nostri uffici un errore materiale come diceva prima c'è un progetto presentato nel nome di manutenzione ordinaria piuttosto che di manutenzione straordinaria oggi no ma nei corridoi si comunque vengo al dunque il progetto che noi abbiamo presentato con determinazione dirigenziale 1306 del 12 settembre 2013 cita testualmente approvazione progetto unico esecutivo dei lavori di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza edifici scolastici facente parte dell'istituto comprensivo e bla 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 e il frontespizio che è quello che è stato consegnato sempre con lo stesso giorno parla di lavori di manutenzione straordinaria quindi la S ce la siamo ricordata ce l'abbiamo messa e questo ha fatto sì che i progetti da noi presentati siano stati recepiti dal Dipartimento Simu che aveva poi la titolarità di presentarli alla Regione Lazio e approvati con il terreno di delibera quindi come dire hanno già superato il vaglio della conformità rispetto a quanto il bando richiedeva altrimenti il Simu non li avrebbe presentati e sono stati presentati in Regione Lazio che poi da Regione Lazio l'unica notizia positiva sia la dichiarazione dell'assessore competente in materia l'assessore Refrigeri che in data 27 novembre dopo avercelo detto verbalmente ha anche fatto un comunicato stampa per dire che tutti i progetti erano stati finanziati e che a questo non sia ancora succeduta la pubblicazione della graduatoria su Burle questo è motivo di pressione quotidiana non ultimo alla lettera che ancora oggi abbiamo sottoscritto tutti gli assessori municipali a indirizzo di Masini del Sindaco e dell'assessore Pucci affinché ottenesse da Zingaretti e dall'assessore Refrigeri la grazia di veder pubblicata questa graduatoria che ci risolverebbe problemi in numerose scuole grazie assessore consigliere Matronova tre minuti posso? posso? grazie ma direi assessore io capisco la sua eronia perché mi piace perché questo risetto mi piace però quando risponde su certe situazioni deve afferrare bene l'argomento sul progetto c'è scritto manutenzione straordinaria nulla da eccepire io ci posso scrivere manutenzione straordinaria su tutti i progetti ma il contenuto quello che conta il contenuto del progetto non l'intestazione manutenzione straordinaria perché se io per manutenzione straordinaria devo intendere il rifacimento di un manto di un tetto è un conto se io per manutenzione straordinaria metto l'imbranchamento di un soffitto non è manutenzione straordinaria ma diventa manutenzione ordinaria quindi chi valuta il progetto caro assessore chi valuta il progetto chi valuta il progetto è quella persona che deve definire se è giusto se rientrano quei 500.000 manutenzione ordinaria straordinaria poi in merito alle pressioni che ho fatto nei corridoi assessori dove io vantavo la manutenzione ordinaria benvengano io sono disposto a fare un'altra 100.000 non con interrogazioni come ha fatto il suo consigliere di maggioranza per carità è una cosa bellissima quello che ha fatto un attacco bellissimo bello un teatrino bellissimo io le faccio un'altra domanda un po' più se io sono stato il tramite a farle sollecitare i progetti benvenga continuerò a sollecitarla continuò con lo spillone a dargli le pizzicatine dietro per farlo camminare perché no non c'è nostro merito sono contento allora già è una cosa tutti i meriti buoni lascio tutti a voi a voi della giunta perché vedo che state lavorando in un modo molto molto buono molto bravi e quindi posso condividere con voi tutti gli obiettivi che raggiungete sono pochi sono pochi e l'ha dimostrato poi il fatto potrebbero diventare di più perché quello l'interrogazione e la mozione che ha presentato il consigliere Coglia credo che sia non votare sugli appalti credo che sia il massimo in un momento di mafia capitale qualcuno del PD si astiene tutta la maggioranza del PD si astiene dicendo non siamo d'accordo sulla mozione e c'ha ragione e me faccio parlare per contesia ma se tutti facessero così è impossibile però è un po' più a lei non so consigliere non mi stacca e che cazzo non mi importa che dico una cosa io navigo come quando lei va su internet naviga sto a casa mia non sto nel consiglio sto a casa mia per contesia una volta per tutte c'ha tre minuti risponde se è soddisfatto o no senza andare a rimettere su altri argomenti grazie ok allora giustamente assessore io mi considero soddisfatto per quanto concede la sua risposta perché lei ha detto che purtroppo ci sono difficoltà di bilancio ben ben credo che a febbraio marzo aprile si voterà il bilancio forse pure prima mi auguro mi auguro quindi inseriranno dentro queste 37 però una domanda viene spontanea ma sono stati approvati tutti quelli presentati o sono stati approvati 37 su 100 presentati e dai facciamo è giusta come domanda 37 mi dicono la regia 37 su 37 ok quindi vabbè 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 hanno messo ST davanti STR vabbè la stra ok assessore mi ritengo non soddisfatto della sua risposta ah si è condivido quello che ha detto eh per i percorsi grazie consiglio chiuso con dieci giorni grazie scusso consigliere madrona c'è grazie 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 grazie